Mailboxis a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Alla fine i diritti della classe sono emersi in favore della Cavese, che comincia bene il campionato di Serie D, vincendo per 2-0 con i gol di Kosovan e Corigliano, ma onore al Rende, che soprattutto nel primo tempo aveva avuto le occasioni per segnare gol contro la squadra di Ferazzoli, e il tecnico dei calabresi Emilio Cavaliere a fine gara dirà ai giornalisti che ha apprezzato il coraggio della propria squadra nella prima frazione di gara e che il fatto di aver preso gol a pochi giri di lancette dall'intervallo può avere inciso sul morale dei suoi. Giocando come ha fatto ieri a Lamberti, il Rende giungerà all'obiettivo prestabilito. La Cavese potrà raggiungere il suo obiettivo, obiettivo molto ambizioso, solo migliorando l'intesa collettiva. Le insidie sono sempre dietro l'angolo. Si è appena all'alba di un campionato a 38 giornate, ma anche i risultati contano. Nella fase iniziale la squadra a cui lotta appare tesa. Alcuni giocatori sbagliano in fase di costruzione. All'ottavo minuto fugge Boito verso l'area della Cavese e dopo un appoggio sbagliato da Fissore, va al tiro e costringe Anatrella alla rispinta. I metelliani col passare dei minuti osano di più, ma devono stare in guardia perché i biancorossi sono sempre insidiosi. Anatrella salva in due tempi sulla botta di Moscero, poi ci pensa il terzino Potenza, chiudere in maniera davvero determinante su questa situazione non abituale di 4 contro 1 per il Rende. Al 44esimo la rete campana. Carbonaro lancia Allegretti che colpisce al volo. Palo recupera proprio Allegretti che dal fondo rimette in mezzo. Mitica para sulla prima conclusione di Kosoman, ma poi si arrende sulla seconda battuta del fantasista ucraino che porta la Cavese sull'1-0. Nel secondo tempo Ferazzoli cambia. Entra D'Angelo, un centrocampista, al posto dell'attaccante Carbonaro e il 4-3-3 iniziale diventa 4-3-1-2. La Cavese soffre di meno le iniziative del Rende e riesce a concludere con più frequenza verso la porta biancorossa. La risposta dei calabresi è in questo tiro di Palma, entrato al posto di Boito, che però calcia in condizioni di precario equilibrio e sbaglia. A metà ripresa tocca all'attaccante Dias e al regista Romizzi, debuttare con la maglia della Cavese. Al 79esimo il punto del raddoppio Metelliano. Palma per Allegretti, il quale si gira e lancia nello spazio il centrocampista Corigliano che non può mancare il bersaglio davanti a Mitica. 2-0 della Cavese tra le proteste dei calabresi che pensavano a un fallo di mano. Due occasioni nel finale. La prima con Palma, che si fa respingere il tiro da Anatrella, e la seconda per Bacio Terracino, che avrebbe potuto portare i suoi sul 3-0, ma sarebbe stato troppo pesante come passivo per il Rende. Finisce col successo della Cavese. Successo rotondo, mentre i calabresi si tengono solo alla prestazione. Sparbare una mandazione. Alla prossima. Grazie a tutti